Cinque anni di attività, quest'anno abbiamo avuto 4.800 per stazioni sanitarie, stabili rispetto all'anno precedente, si confermano gli italiani al 50%, crescono gli africani. Il mondo della migrazione spesso afferisce alla stazione perché spesso non ha tutela sanitaria, quindi cerca lì di avere qualcosa, soprattutto nelle fasi successive all'accoglienza, avere proprio quando poi spesso vanno a finire per strada e le vediamo dappertutto in città. Terra di Gesù è stata anche Casa Moscati quest'anno, quindi una struttura in collaborazione con Caritas che accoglie H24, gli ammalati spesso in posto e dimissione a sé poveri e poi diventa strumento di ricerca. Strumento di ricerca perché? Abbiamo fatto parte di uno studio nazionale su povertà, tiroide e cattivo alimentazione coordinato all'Università di Pavia, 2.000 pazienti in tutta Italia e emerso chiaramente che chi mangia poco, assume poco iodio e si ammala di tiroide, ma questa cosa è pericolosa per le mamme in gestazione perché hanno il rischio di avere bambini che avranno problemi. E' emerso statisticamente rilevante questo dato. Cosa importante, stiamo per partire per il Buon Pastore, centro sempre sanitario, a tutela degli ultimi, soprattutto con un'attenzione pediatrica che è in collaborazione però con l'Università di Messina. Tutto questo mentre domenica Santa Maria della strada con noi e con Caritas festeggerà la stazione giorno 13, domenica dalle 18 in poi, il sesto anno di attività della struttura di Padre e Padre e nello stesso tempo di Terra di Gesù, il quinto anno di attività dello studio medico.